Allarmanti dati sanitari a Taranto, all'ombra delle ciminiere dell'ILVA, record di tumori. Carolina a casa. Non era sorpresa, sappiamo tutti come stiamo. Ne è morto un altro di 62 anni adesso. Siamo proprio abbandonati qua. A Taranto la malattia è un numero a tre cifre, 048, ossia il codice di esenzione dal ticket per le neoplasie. Lo hanno chiesto alle asle della città 8.916 persone su un totale di oltre 191.000 abitanti. Quasi 9.000 malati di tumore, in pratica uno ogni 20. A prima vista potrebbe sembrare un numero spaventoso, ma non si discosta molto dalla media nazionale che arriva a contare un malato di cancro ogni 25 abitanti. Il problema è un altro. Qui l'incidenza delle malattie dipende dal quartiere e dalla sua posizione geografica. Più ci si avvicina alle ciminiere della zona industriale, più aumentano i casi di tumore. Uno ogni 18 a ridosso degli stabilimenti. Mano a mano che ci si allontana, la media sale e si ammala un abitante ogni 26. Dobbiamo convivere perché un'altra casa non ce la possiamo andare a comprare. I dati confermano la grave situazione sanitaria denunciata anche dall'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità. Aumenti il record di tumori nelle donne passati dal 24 al 100% dal 2003 al 2009. Sono nati dei bambini con tumori, in particolar modo ultimamente un tumore alla prostata e non è giusto. È il caso di fare meno burocrazia e più fatti, altrimenti Taranto avrà tanti tumori anche nei prossimi 30-40 anni.